La terza sfida tra dei migliori talenti del circuito immediatamente in piedi per lo studente di Simone Tartarini che subisce due pause nel primo set, con possibilità di tornare alla chiusura cancellate con coraggio e classe dall'avversario. Il blu si gira al suo angolo confessando faccio fatica a fare punto della sua battuta. E in effetti, è così i colpi del fenomeno morciano che nel set cancellano la terza e ultima palla di pausa. Concessa e si alza sulla sedia nel secondo set. Chiudendo il parziale anche con punteggio 62. Tuenno sono 60 vittorie nella stagione.